Lotta chi inquina la città abbandonando e conferendo in modo errato la spazzatura, la partecipata del comune che si occupa di pulizia, spazzamento e raccolta dei rifiuti, Salerno Pulita, continua il suo tour nei quartieri e fioccano le multe. Al setaccio le buste abbandonate, ma anche quelle che non rispettano il calendario prestabilito. Nel mirino privati cittadini e locali, come spiega l'amministratore unico Bennett. Diciamo che forse c'è ancora un po' di confusione il giorno dell'indifferenziato, perché poi gli altri giorni la situazione è migliorata molto, solo che il giorno dell'indifferenziato si continua a conferire un po' di tutto. Intensificati i controlli con il supporto della Polizia Municipale. I controlli stanno diventando non più repressivi, ma di accompagnamento per far capire qual è il problema, perché a volte magari con la presenza della Polizia Municipale riusciamo ad essere più credibili nel far verificare, nel far accertare l'errato conferimento. Quando non si ritira, insomma, è perché quel sacco del rifiuto non è conforme e quindi aspettiamo poi di intervenire. Adesso per farlo capire stiamo intensificando l'applicazione del bollino di materiale non conforme. Diciamo che le multe non stanno riguardando solo le attività commerciali, ma stanno riguardando anche le utenze domestiche. Quindi non c'è un'azione solo ed esclusivamente nei confronti delle attività commerciali, però ripeto, sia nel domestico che nel commerciale la situazione è migliorata moltissimo.